Si prenderanno come una... Un spago. Un spago. Un spago, dove l'è? Brava! Siamo che l'agricoltura, ma anche l'ambiente, sappiamo che c'è una connessione stretta tra agricoltura e ambiente. Agricoltura e ambiente significa, in questa regione, evitare, per esempio, di contaminare l'acqua, per esempio, di trovare soluzioni a queste alluvioni che sono state create anche, diciamo, sulla carta, molte di queste. Quindi bisogna, come dire, fare un lavoro comune. Noi ieri abbiamo fatto due passaggi qui alla regione. Credo che chi di voi ha visto i telegiornali ieri ne hanno parlato abbondanza. L'audizione ieri mattina alla Commissione Attività Produttive e l'incontro della cabina di Reggio. Ieri io ho chiesto a Folino poco fa al Presidente un incontro con i capi di tutti. Dopo i due passaggi di ieri, riunione in Commissione e riunione del tavolo della cabina di Reggio, noi oggi vi poniamo formalmente, diciamo, uno slogan molto complicato, ma la logica è... la logica è che non se ne cantono messo... Un applauso, un applauso anche per loro, che stanno quasi con noi, i lavoratori di... Allora, noi, comitati per le ioniche, stiamo qui con... Cutolo. Oh, l'acqua minerale, Cutolo, è incredibile. E la Regione... Dorme. Siamo dalla Valdamenti, altre 38 operai, altre 38 operai che stanno in crisi da parecchio, da parecchio. Noi chiederemo naturalmente al Consiglio regionale il rispetto degli impegni, chiediamo le misure, le risorse, chiediamo che ci sia un ordine del giorno oggi. Sì, Quattro e due ore ce la faccio. Abbiamo tanto incartinato una via e un percorso che io sono assolutamente convinto che si stanno sempre di più aprendo le strade. Vi dico il titolo, poi parlerà. Dall'altra parte, se oggi vi dovessi dire se quando arrivano queste cose noi saremmo ancora vivi, io devo essere onesto con voi, non lo so. La cabina di regia che noi abbiamo avuto salendo sul petto era una cosa un po' vuota, senza soldi. Ripeto, qual è l'obiettivo? Non di buttare a monte quello che abbiamo fatto, ma di rafforzare lo strumento che abbiamo avuto. Grazie. 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 Grazie.